Ti do il benvenuto su Espresso, la rubrica di pensieri in codice in cui ci beviamo insieme un caffè ed io ti racconto di un libro, di un gadget, di un videogame o di qualsiasi altra cosa che mi ha colpito e che sono sicuro piacerà anche a te. Al termine dell'episodio, se riterrai che ti abbia dato un buon consiglio e vorrai offrire tu il prossimo caffè, potrai farlo acquistando dal link affiliato che trovi in descrizione o addirittura pensando di inviare un piccolo contributo per supportare il progetto. Trovi tutti i dettagli sul sito pensierincodice.it con due i. Quando penso a te, ascoltatore di pensieri in codice, tendo sempre ad immaginarti un po' simile a me, con i miei stessi interessi, con le mie stesse fissazioni, ma anche con i miei stessi problemi. Forse è un modo un po' limitato di pensare alla cosa, ma per ora è così e influisce anche sui gadget che ti consiglio in questa rubrica. Se qualcosa piace a me, finisce nell'elenco degli argomenti degli episodi di Espresso e lo strumento di oggi non fa eccezione. Per come ti immagino quindi, sei probabilmente una persona che trascorre tanto tempo seduta ad una scrivania davanti a un pc. Tra call e email, documentazione e codice, le ore trascorrono in un attimo è a volte la concentrazione tale che non ti stacchi dallo schermo se non per il pranzo e la cena. Sono certo che, come me, già sai che si tratta di un comportamento sbagliato. Però, ammettilo, non è mica semplice renderti conto che dovresti fare una pausa quando la tua mente è immersa in un flusso continuo di creatività e ragionamento. Io spesso utilizzo un timer e la tecnica del pomodoro. Ne ho parlato in un episodio di qualche tempo fa di pensieri in codice, ma è un approccio non sempre applicabile e soprattutto non riguarda nello specifico il problema che vorrei affrontare oggi con te, che è in realtà un po' più subdolo. Tra le tante attività, infatti, che noi informatici tendiamo a trascurare, c'è quella semplice ma fondamentale, raccomandata praticamente da tutti, che è l'idratarsi, l'assumere una sufficiente quantità di liquidi. Ora, lo so che è banale, ma pensaci, tu bevi almeno un litro e mezzo o due litri di acqua ogni giorno? Non serve essere laureati in medicina per sapere che è una cosa importante? Ce ne accorgiamo noi stessi in quei rari giorni in cui assolviamo correttamente a questo compito. Abbiamo meno fame, ci sentiamo più energici. Le signore che hanno più occhio per queste cose notano una pelle più elastica, ci sentiamo semplicemente meglio in generale. Eppure, di norma, non lo facciamo. Nei giorni lavorativi, perché siamo troppo concentrati sulle nostre altre attività, nel weekend, semplicemente perché ormai ci siamo abituati a trascurare queste attività e ce ne dimentichiamo. Io ho sempre cercato una soluzione a questo problema nel mondo tech. Ho sempre pensato che dovesse esistere uno strumento smart per aiutare le persone a mantenere questa buona abitudine. E quindi, nel corso degli anni, ho provato un po' di quelle app che ti avvisano durante il giorno, nelle quali puoi annotare la quantità di acqua bevuta, e le ho sempre abbandonate al massimo dopo tre o quattro giorni. Non importava quale scegliessi, c'era sempre quel pensiero di fondo che mi diceva che c'era qualcosa che non andava. E poi finalmente ho capito. Il limite è che ti devi appuntare le informazioni manualmente. Sembra una cosa da niente, ma la realtà è che il telefono fa bip. Tu devi bere magari un sorso o un bicchiere o dalla borraccia chissà quale quantità e poi sbloccare il telefono, cliccare sulla notifica, cliccare su aggiungi, capire la quantità. Sì, ma sto lavorando, mi sono distratto, ho perso il filo, arrivano altre notifiche. No, non funziona, secondo me. Ne sono così convinto che qualche anno fa provai perfino a progettare con un collega ingegnere una borraccia che tenesse traccia in maniera automatica della quantità di acqua bevuta. Purtroppo il progetto si arenò quasi subito, probabilmente perché non ci credemmo abbastanza, ma forse con il senno di poi perché non avemmo l'idea giusta che, come scoprirai fra poco, è così semplice da sembrare banale. Ad ogni modo, dopo tanta ricerca, qualche settimana fa finalmente ho scoperto la soluzione perfetta. Ovviamente l'ho acquistata, l'ho provata e se oggi sono qui a condividerla con te è perché l'ho trovata fantastica. Sto parlando del drink manager. E cosa sarà mai un drink manager? Beh, nella pratica è una piccola bilancia intelligente prodotta dalla Beurer. È un'azienda tedesca, non faccio nemmeno finta di pronunciarla correttamente. Il funzionamento è molto semplice. La posizioni vicino alla tua appostazione, riempi un contenitore, un bicchiere, una tazza. Io uso una borraccia di Decathlon da 5 euro e lo appoggi sopra il drink manager. Quando bevi, ovviamente sollevi il contenitore e poi lo riappoggi e la bilancia valuta la differenza di peso e capisce quanta acqua hai bevuto. È semplice e geniale. Mantiene le informazioni per 14 giorni e di tanto in tanto puoi collegarla via bluetooth allo smartphone per scaricare i dati nell'app, la quale ti produce anche qualche grafico e ti comunica se hai rispettato o meno gli obiettivi che ti sei prefissato. Ovviamente la sua funzione non si limita solo a conteggiare l'acqua bevuta, ma opera anche come un piccolo reminder. Puoi impostare fasce orarie e quantità di liquidi da assumere e il manager ti avvisa tramite segnali luminosi e sonori se stai rispettando o meno la tua tabella di marcia. L'oggetto in sé è molto leggero e compatto. Io lo metto nello zainetto del pc e me lo porto in ufficio, ma entra tranquillamente anche nella tasca di una giacca. Nell'utilizzo giornaliero mi sono dato come obiettivo i classici due litri e devo dire che anche se non li raggiungo proprio sempre, la media generale è molto migliorata nel corso di queste ultime settimane, ma ovviamente prima che tu te lo possa chiedere ti dico subito che non lo utilizzo in modo compulsivo, ad esempio non durante i pasti. L'idea non è quella di tracciare ogni singola goccia di liquido, quanto piuttosto quella di avere un reminder un pochino più intelligente che richieda molta meno attenzione nell'utilizzo. Tanto per capirci, ad esempio, sto sorseggiando anche mentre scrivo questo episodio. Se a ogni sorso dovessi fermarmi per annotare la quantità, ci metterei, non lo so, il doppio del tempo probabilmente. Il manager però sta anche facendo bip e mi sta mostrando un led rosso, quindi so che devo incrementare il ritmo se voglio rispettare la mia tabella di marcia. Insomma, è una soluzione semplicissima ma anche molto funzionale. Io conoscevo già la Beurer perché ho già una loro bilancia appesa a persone smart da anni e posso dire che i loro prodotti mi piacciono proprio per fattura e resistenza. Anche per questo motivo mi sono lanciato subito nell'acquisto del drink manager e devo dire che non me ne sono affatto pentito. Bene, come certamente avrai capito dalla mia voce, oggi non sono per niente in forma. Quindi sinceramente non saprei che altro dirti riguardo al drink manager se non consigliarti di andare a guardare il link che ti lascio in descrizione, che ti ricordo è un link affiliato, quindi acquistando a partire da esso non spenderai un centesimo in più ma sosterrai il mio progetto. Poi se hai domande non esitare a farmele, sarò felice di risponderti. Trovi tutti i miei contatti sul sito pensierincodice.it con due i. Ah e poi non farti spaventare da alcune recensioni che troverai che ti dicono che è troppo difficile da usare. Sinceramente la cosa mi aveva un po' preoccupato all'inizio, ma una volta messo in funzione mi sono reso conto che è di una semplicità tale che onestamente non capisco come non si possa riuscire ad utilizzarlo. Cioè o a quei clienti deve essere capitato un esemplare difettoso oppure boh gli esemplari difettosi sono loro, non saprei come altro spiegare la cosa. Bene la mia voce è terminata, tu fammi sapere se deciderai di seguire questo mio consiglio, lo sai che ci tengo. Noi ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo episodio classico del podcast Voce Permettendo e ricorda sempre che un informatico risolve problemi a volte anche usando il computer.